Sono andati via senza opporre alcuna resistenza e hanno rifiutato le sistemazioni alternative predisposte dal comune. Finisce così, come spesso accade in maniera complessa, la vicenda dell'occupazione abusiva a Napoli di un deposito dell'ANM, l'azienda di mobilità urbana, nel tratto di via Arnaldo Lucci che si incrocia con via Marina. Il deposito, lo Stella Polare, vecchia rimessa di tram con i servizi di luce e acqua ancora allacciati, era occupato da anni da un gruppo di persone rom e altri senza fissa dimora. E proprio a causa di questa occupazione i tecnici dell'ANM non riuscivano ad effettuare i lavori di manutenzione su una cabina elettrica che tuttora gestisce parte della rete tramviaria. Plauso del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'operazione ha detto testimonia come pur a fronte di situazioni articolate e complesse proseguono senza sosta su tutto il territorio nazionale gli interventi di contrasto al fenomeno delle occupazioni legali e di redistribuzione dei beni a legittimi proprietari.